ben ritrovati di nuovo su review oggi vi vado a mostrare questo prodotto che acquistato su amazon un prezzo davvero competitivo vi lascio il link qui sotto in descrizione così potete dare un'occhiata ed è un timer visuale da 60 minuti ce ne sono diversi devo dire la verità ma questo mi ha colpito davvero particolarmente per la qualità e il prezzo innanzitutto le dimensioni sono abbastanza contenute ma vi permettono di posizionarlo in un punto che sia visibile anche da lontano quindi non è piccolino questa è la mia mano adesso andiamo a vederlo comunque da vicino che cosa rispetto al timer tradizionale il fatto che è proprio visuale cioè si vede lo scorrimento del tempo attraverso questa parte rossa voi impostate ad esempio 45 minuti e man mano che il tempo scorre si accorcia questa parte rossa fino arrivare allo zero funziona batteria no assolutamente no non funziona batteria funziona semplicemente come un normalissimo timer che girate ruotate quindi tic 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 per intenderci e la particolarità è che appunto c'è questa parte rosa allora come vedete c'è in questa colorazione grigia oppure anche black nero parte davanti in plastica molto bello anche da vedere e avete i minuti da zero a 60 giriamo sul retro ci sono queste due parti che sono calamitate quindi lo potete attaccare su un frigorifero se ovviamente permette di attaccare le calamite o anche c'è la posibilità di infilarlo al di sopra di un chiodo chi lo volesse appoggiare si possono sollevare queste due linguette e appoggiarlo semplicemente in questo modo perché è utile questo timer beh essenzialmente per chi insegna nelle scuole per i bambini che hanno dei deficit a livello proprio di di aver bisogno di vedere il tempo che scorre per abituarsi diciamo e ad essere più in una zona di comfort andiamo a vedere come funziona innanzitutto la prima volta si deve girare fino allo zero poi dopo si rigira tutto questo è il suono come vedete e si imposta quindi andate su 5 ad esempio e scorrerà adesso si sente il ticchettio ma se pensate di posizionare in un ambiente ad esempio un'aula vi assicuro che non non si nota il ticchettio come vedete quindi man mano che il tempo scorre la parte rossa diminuisce ed aiuta proprio bambini ad avere un controllo visivo di quanto tempo sta scorrendo o ad esempio se date loro un compito da svolgere ad esempio i vostri figli anche però si rendono conto effettivamente quanto tempo sta passando e si adeguano anche sulla velocità del compito una volta quindi che arriva a 0 suonerà è davvero interessante comodo e un investimento che ci sta tutto link in descrizione del prodotto se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela ci vediamo alla prossima review